Il nostro obiettivo non è il profitto, ma la crescita del Paese. Studiamo l'evoluzione dei mercati e della tecnologia per aprire nuove opportunità alle imprese. Aiutiamo le amministrazioni pubbliche a programmare le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo. Creiamo reti tecnologiche e infrastrutture per la mobilità e per i servizi pubblici. Lavoriamo per un Paese più sostenibile, che sappia offrire istruzione, salute e cultura a tutti i cittadini. Ma per farlo abbiamo bisogno di tutto il talento che l'Italia può offrirci. Che tu abbia alle spalle anni di esperienza, ossia appena uscito dal tuo percorso di studi, se hai la curiosità di cercare nuove sfide, l'entusiasmo nell'affrontarle e la tenacia per vincerle, Invitalia è il posto per te.